Cinque giorni di chiusura per tre attività commerciali, un supermercato che ha ricevuto la visita dei caschi bianchi guidati dal comandante Gerardo Iuliano il 18 ottobre per occupazione di solo pubblico, come viene scritto nel verbale, pari a 5 metri quadri di assenza di autorizzazione comunale. L'attività chiuderà da mercoledì 21 a domenica 25 novembre, stessa sorta per un bar dove la Polizia Municipale ha rilevato l'occupazione abusiva di 66 metri quadri. Infine un ambulante di dolci con licenza che prevede il commercio per l'intera settimana e nei giorni festivi tra maggio e giugno e soltanto nel fine settimana e festivi tra luglio ed aprile. Per lui blocco della 20 del 24 e 25 novembre e poi 1, 2 ed 8 dicembre, in quanto il 16 ottobre, giorno del controllo, non era giorno di festa.